Della scelta sono stati dei poteri in tanto di affinità. Io immagino che ogni durato abbia fatto una prima scelta in base proprio ad una questione di pelle. Dopodiché ci siamo ritrovati, abbiamo visionato i vari oggetti presenti e quindi abbiamo fatto questa scelta. Io sono particolarmente soddisfatto dei progetti che hanno vinto e che sono stati segnalati proprio perché comunque intanto mi sembra che ci sia, adesso non so se posso dire che ha vinto, immagino non ancora. Grazie